Problematiche urgenti e indifferibili, difficoltà divenute insormontabili, gravano su numerose famiglie che lottano per la vita dei loro bambini, a causa dei servizi e prestazioni sanitarie di neuropsichiatria infantile sempre più scarne. E questo il grido d'aiuto di tante famiglie che si appellano ad associazioni, quali Asperger, Abruzzo, La Gente d'Abruzzo, Teate Magnum, Comitato Civico Salute Pubblica di Chieti, inclusiamo Cromosoma della Felicità e Comitato Spontaneo Mamme, per trovare una soluzione per far fronte all'assenza di prestazioni sanitarie e garantire una buona salute e pronta guarigione ai loro figli. Le associazioni che vedete dietro di me sono di due origini. Ci sono quelle, diciamo così, laiche, come per esempio le due che io rappresento, che non vivono quotidianamente questo problema. Ci sono però le altre associazioni, presedute dalle mamme, che vivono quotidianamente questo problema. E le mamme, con grande correttezza e grande disponibilità, hanno manifestato la loro volontà a sedersi a questo tavolo tecnico che noi abbiamo chiesto, proprio per iniziare un confronto sereno con la direzione generale della ASR, con la pediatria della provincia, con i medici che gestiscono il dipartimento di neuropsichiatria. A questo serve quel tavolo. Serve affinché ci sia uno scambio costruttivo di idee fra le mamme, da un lato, che danno voce a centinaia di famiglie, ma che sono portatrici dell'interesse dei bimbi che hanno bisogno del sostegno della neuropsichiatria, e dall'altro il sistema, le istituzioni. Noi riteniamo che ad oggi la neuropsichiatria è praticamente inesistente. Abbiamo chiesto al direttore generale della ASR di sedersi attorno a un tavolo, un bel tavolo come quello che vedete lì, insieme ad una serie di soggetti istituzionali, i responsabili della neuropsichiatria, i responsabili della ASR, le associazioni delle mamme che sono portatrici dei problemi della neuropsichiatria. Evidentemente questa nostra buona volontà, questa nostra disponibilità è stata fraintesa, è stata forse mal interpretata dal direttore generale come un atto di debolezza. Non è così. Noi diciamo al direttore generale che quello è stato un atto di garbo, né di resa né di debolezza. Ad oggi il direttore generale, con un atteggiamento di inopinata, ingiustificata e indifferenza, non ha riscontrato questa nostra richiesta garbata, le condizioni della neuropsichiatria sono quelle che sono, e beh, a questo punto noi dobbiamo andare avanti con delle proteste coinvolgendo la pubblica opinione. Grazie. 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 Grazie.